questo match. Sarà sicuramente una partita da non perdere, amici a casa via telecomando si libera a pazio, ecco il gol dell'1-0, la sbloggano subito l'ha messa sotto la traversa senza lasciare scampo al portiere conclusione precisissima, rischiato, non so onestamente se volesse metterla proprio lì hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0, errore di misura, tutto facile per il portiere Romau, può andare in porta, palla ancora in gioco, la parata ma non è finita, attenzione giocata di qualità per intercettare il pallone potiere sugli scudi, sulla conclusione ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio può riceverlo, prova a calciare, tira il respinto dal difensore allontanano il pericolo buona l'idea qui vediamo cosa fa ora palla vagante adesso perdono il possesso del pallone ottimo pressing, recupera il pallone ferma l'azione, recupera il pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta tocco orizzontale Ture, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone Hernandez De Rossi, si avvicina all'area bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio si ripartirà con un fallo laterale Ture c'è il lancio sulla fascia avanza sulla tre quarti ancora la circolazione di palla intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla spazzano via il pallone c'è il tiro dalla distanza hanno sfiorato il gol del pari bel tentativo dell'attaccante che meraviglia non era facile trovare la porta da lì è mancata un pizzico di precisione De Rossi succedimento interessante palla dentro, occhio palla verso la porta si porta da più due con questo gol un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta hanno un discreto vantaggio da gestire questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa match che riprende hanno allungato portandosi sul 2-0 attenzione perché è pericoloso bravo qui a smarcarsi grande intervento del portiere questa è una parata che vale come un gol sembrava battuto ma come ha fatto ad arrivarci? pazzesco corner battuto corto riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare allontana bene il difensore prova con lancio lungo apre il gioco palla intercettata bene in posizione interessante vediamo cosa inventa ora posizione ideale occhio al tiro e c'è il gol tutto fermo gol annullato per posizione di offside i giocatori chiedono spiegazioni all'arbitro e al suo collaboratore anche se fuori gioco mi è parso che ci fosse il pallone è uscito si ripartirà con una rimessa laterale ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio cerca la sovrapposizione fanno girare palla in attesa del momento giusto arbitro che assegna il calcio di punizione la gioca corta la difesa la meglio e allontana il pallone palla allontanata ma solo temporaneamente deve liberarsi del pallone puntuale qui il difensore nel recupero lancio fuori misura la palla recuperata senza problemi palla morbida a scavalcare la difesa un'entrata decisa e efficace ci sarà rimesso laterale da buona posizione la scuola nonpattata ma solo nonpattata ma solo nonpattata ma solo vediamo cosa fa ora è in buona posizione provano con il pressing a recuperare il pallone è calcio di punizione occhio perché è una posizione interessante vedremo se proverà a calciare direttamente in porta la tocca a rasoterra di facciare difficoltà qui, attenzione arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo e l'arbitro dice che può bastare ma da tutti degli spogliatoi 2-0 al termine del primo tempo il risultato di questo primo tempo mi sembra abbastanza scontato ecco il calcio di inizio del secondo tempo De Rossi Ture Palla larga Azione che sfuma, pallone che... Buona l'idea qui Attenzione perché è pericoloso Offside che ci sta tutto doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta Tocco impreciso, pallone recuperato Gran palla in mezzo ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuori gioco Tocco robusto C'è la rivessa con le mani, può nascere qualcosa di interessante da lì può crossare lo vede? uno slalom attenzione murato dall'intervento del difensore allontana e concede la tuscia serve lungo il compagno con le mani Occhio in mezzo, può cercare il cross pallone che termina fuori sarà semplice rimesso dal fondo Ture interrompe bene l'azione intercettando il lancio ruba bene palla all'avversario intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio bravo qui nell'interrompere tutto perdono palla banalmente ha intercettato bene il passaggio non ci voleva molto Hernandez buono il contrasto recupera il pallone palla pericolosa bravissima qui attenzione al pressing pallone che è uscito l'arbitro assegna la rimessa dal fondo Romao ottima la lettura del difensore che ha capito tutto ha recuperato il pallone tocco profondo a scavalcare la difesa voleva sorprendere la difesa ma qui è finito in offside Hernandez Traori back cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo buono l'anticipo del difensore regalano palla agli avversari provano ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante buon tikitaka quest'oggi fin qui Romau bravo qui a smarcarsi buono l'intervento del difensore che spazza via hanno spazzato via ma c'è il recupero ancora del pallone ha spazio lungo la corsia vediamo cosa fa ora Onchio da lì ed entra in rete gol grande conclusione ravvicinata una gran bella rete alcune volte il portiere lo sappiamo per far vincere le partite direi che oggi non è andata assolutamente così anzi è una gara a senso unico questa ormai buone qualità di palleggio quest'oggi c'è il dressing attenzione occasione hanno accorciato le distanze con questo gol e cercano la rimonta perfetta e chi può dirlo certo dimostrano di essere ancora in partita almeno a livello mentale ed è già qualcosa siamo 3 a 1 e magari non finirà così è arrivato un gol che da un palla molto interessante palla che torna alla difesa avversaria spazio per il cross niente da fare gran recupero difensivo pallone perso pallone invitante può ricevere una posizione interessante e c'è la conclusione hanno avuto l'occasione per riaprire il match nel finale si resta invece come prima poteva fare sicuramente meglio qui è sconsolato non riesce a darsi pace per questo errore e sa di averla combinata grossa puntuale qui il difensore nel recupero all'interessante dello spazio è in buona posizione offside che ci sta tutto doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta bravo anche qui il difensore che allontana può colpire da lì cross controllato senza problemi ancora tre minuti prima del fischio finale possono ripartire in contropiede hanno perso palla è sfumato il contropiede bel gesto tecnico conclusione che finisce sul fondo dopo aver preso il palo che piedino qui però nulla da riproverarsi l'aveva indirizzata bene sarà per la prossima volta il quarto uomo indica tre minuti di recupero perdono palla banalmente palla morbida scavalcare la difesa attenzione perché è pericoloso posizione ideale lo vede allontana bene il difensore arriva la segnalazione sarà offside va da bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare Matteo ultimo giro di lancetta è per chiudere questi 90 minuti bene Matteo per ora può bastare grazie ovviamente richiamaci ci saranno novità grazie a tutti